Io penso che una persona che compie un gesto simile difficilmente possa avere un'anima, comunque io sono quasi morto, per tre millimetri non mi si... ci asciuglieva la carotide, sono stato anche fortunato in questo quindi non lo so, il mio pensiero è quello lì Era la notte tra l'1 e il 2 novembre una serata normalissima, sono uscito per andare a bere al ristorante di amici al mio rientro, dopo aver portato tutti a casa, arrivo davanti al cancello quindi scendo dalla macchina, faccio per aprirlo, per posseggiare la macchina dentro il cortile e vedo una figura da dietro praticamente assalirmi e mi lancio questo liquido in faccia e addosso e dopo pochi secondi già non vedevo più comunque sono riuscito comunque a entrare in cortile sono andato in giardino, ho strappato dell'erba per prendere e pulirmi gli occhi, per cercare di tornare a vedere ma ovviamente non è servito nulla successivamente sono riuscito a salire al primo piano a bussare alla porta, lì mi ha aperto mio papà che mi ha visto tutto nero e ho provato a lavarmi la faccia con dell'acqua per cercare di rimuovere questa sostanza che avevo ovunque non ci sono riuscito, allora siamo andati al Fatebene Fratelli per andare a fare una visita oculistica per cercare di capire se la situazione si poteva arginare in qualche modo però niente, lì non... e il giorno dopo mi hanno trasferito al Niguard, al Centro Grandi Ustioni dove sono stato ricoverato un mese e mezzo successivamente mi hanno trasferito in chirurgia plastica per un altro mese e mezzo, totale tre mesi dopo che mi hanno aggrito io onestamente pensavo mi un verso rubare o la macchina o l'orologio anche perché non ero riuscito a dare un senso a questa aggressione chiaramente poi è venuta la polizia a farmi delle domande chiedendomi se avessi litigato con qualcuno se avevo avuto dei problemi, non so, anche a lavoro io ho sempre detto di no poi dopo tre mesi effettivamente è venuta fuori la verità che mi avevano colpito per uno scambio di persona e quindi niente successivamente mi hanno fatto la prima grossa operazione che era quella di rimozione dell'escara poi ho fatto un trapianto con una pelle artificiale che si chiama Integra ho aspettato che l'innesto attecchisse e poi mi hanno fatto un prelievo di pelle dalle cosce e mi hanno innestato la pelle sul volto, collo, una mano e un pezzo di coscia una volta uscito sono andato a fare questa maschera col silicone molto più robusta che ho tenuto 18 ore al giorno per due anni e mezzo più o meno che è una maschera che è talmente chiusa che non ti permette neanche di parlare quel periodo è stato dedicato totalmente alle cure poi ho smesso di lavorare per cause di forza maggiore e ho ripreso a lavorare tre anni e mezzo dopo oggi vivo bene col fatto che sono ancora cieco da un occhio certe cose non riesco più a farle però in maniera così agevole come un tempo però mediamente non posso lamentarmi ho una qualità di vita buona dovrò fare altre operazioni spero all'occhio poi di chirurgia plastica onestamente non ho più voglia ma il momento più buio è stato sicuramente stare tre mesi in ospedale e poi all'uscita all'ospedale comunque non poter prendere e uscire perché devi dedicarti a qualcos'altro che per carità era super importante però è stato abbastanza impegnativo mentalmente quando passi da una situazione dove puoi prendere a fare quello che vuoi quando vuoi a una dove non puoi fare mai quello che vuoi diciamo che è abbastanza stressante la coppia che mi ha fatto questo io non l'ho più sentita e spero di non risentirla ognuno di noi ha preso la sua strada speriamo che restino sempre separate in tribunale ho visto tutte e due ovviamente in udienza di vederli per forza vederli lì non mi ha fatto né caldo né freddo a dire la verità io penso che una persona che compie un gesto simile difficilmente possa avere un'anima comunque io sono quasi morto per tre millimetri non mi si ci asciuglieva la carotide sono stato anche fortunato in questo quindi non lo so il mio pensiero è quello lì c'è la mia vita va avanti sia che loro siano fuori sia che loro siano dentro quindi a me farbbe poca differenza onestamente secondo me bisogna prendere anche nel brutto cercare di vedere il bello in tutte le situazioni io comunque mi sono sempre cercato di persone che mi volevano bene me l'hanno dimostrato la famiglia mi è sempre stata accanto queste sono le cose che credo per quanto mi riguarda che valgano di più nella vita accadono cose e dobbiamo accettare che accadano senza prendersi e chiedersi perché a me tu c'è una cosa poi tu prendi e devi reagire per sistemare ciò che è successo mio papà è la persona che poi si è sobbarcata più di tutte le incombenze che sono venute dal primo giorno in ospedale fino a quando non ho finito di fare le operazioni ma anche quelle più impegnative quindi sono molto fortunato mi reputo molto fortunato non è scontato mi sono fidanzato con questa mia amica poi da cosa nasce cosa e ci siamo fidanzati quattro anni fa lei è sempre stata super presente ovviamente in tutti questi anni fermo restando che nessuno è perfetto io sicuramente sono meno perfetto di una persona normale comunque sono orgoglioso del percorso che ho fatto non tanto dal punto di vista fisico ma dal punto di vista mentale anche ad avere scritto il libro sapevo che poteva aiutare qualcuno che stava o che sta percorrendo un percorso di ricostruzione di vita credo che per prendere e condividere i momenti felici siamo tutti bravi ma riuscire a condividere un momento negativo che ha una conclusione positiva possa essere incentivante per chi magari non pensa di non avere la forza per poter superare dei grossi problemi che ha nella vita mi rende felice questa quasi normalità che sono riuscito a riacquisire se dovessi dare un consiglio consiglierei di avere il coraggio di condividere il dolore con con le persone che hai vicino mi sono arrivati i messaggi da persone a me vicine che conosco da anni che invece passano dei momenti veramente super dolorosi il fatto di condividerlo secondo me può aiutare a superare dei momenti di difficoltà grazie a tutti Grazie a tutti.